La maglietta sanzionava le pizza villa Senti che Noi devono fare una scenetta con la pizza villa La maglietta sanzionava le pizza villa La pizza è bene La pizza è bene Valentino cos'è successo? E' successo che un assessore del Comune di Napoli Ci ha chiesto un sacco di soldi per poter fare una manifestazione più importante al mondo Questa manifestazione è la più straordinaria in assoluto per quanto riguarda il mondo della Russia Si deve fare Il Caputo Napoli Pizza Village Il Caputo Napoli Pizza Village Grazie Grazie